Sindaco, da questo quaderno di cantiere Friuli, che parla di grande spinta necessaria per ridare impulso al Friuli, arrivano tante sollecitazioni. Qual è l'urgenza che lei ha colto come principale e che sente, come sindaco del Centro di Udine, la più importante? Innanzitutto togliere la marginalità che il Friuli in questi anni sta subendo rispetto ad altre aree della regione, in particolare rispetto a Trieste, siamo veramente, non dico in caduta libera, ma siamo stati fortemente ridimensionati. Gli investimenti sono stati più bassi rispetto a Trieste, la situazione dell'economia ha risentito, per quanto riguarda la crisi, molto di più nella provincia di Udine rispetto ad altre aree della nostra regione, quindi c'è una situazione di emergenza. E allora l'appello che mi sento anch'io di fare è che bisogna che questo Friuli si dia una mossa che torni a essere un po' più protagonista all'interno dei scenari regionali. E questo dipenderà molto dalla regione, ma dipende anche da noi, soprattutto da chi in questo Friuli, a Udine e nei centri più importanti dell'ex provincia di Udine, hanno una responsabilità istituzionale, che facciano squadra, come in questi anni stanno facendo squadra a Trieste, è necessario che anche a Udine facciamo squadra e cerchiamo di darci, di progettare qualcosa di innovativo per invertire in pratica questo andazzo che sta penalizzando il Friuli.